Evento firma copie il 17 dicembre a Casal Nuovo di Napoli al Santa Claus Village! Verrete? Ci saremo noi, vi aspettiamo! Ah ah, ciao a tutti diavoletti! Verrete al nostro evento il 17 dicembre? Vinci, cosa fai? Vi aspettiamo il 17 dicembre! Vinci, ma cosa fai il nostro cagnolino? Si sta rilassando vicino il camino? Esatto! Al nostro cagnolino piace tantissimo il camino, vero Hop? Si, gli piace tantissimo! Guarda come si è messo perché diavoletti, così in questa posizione si sente veramente molto caldo! Il camino è molto caldo e quindi al nostro cagnolino piace molto! Che carino, il nostro cagnolino si sta rilassando! È molto rilassato adesso! Oh, il nostro cagnolino ama questo camino! Ok, ma adesso basta, fa troppo caldo qui! Oh, Vinci! Ok, ma il 17 dicembre noi porteremo anche tutti, tutti i nostri libri! Eh sì, guardate! Questo è il nostro libro, Anto e Vinci, il sogno di Hop! Ed è uscito in tutte le librerie di Tordia! Guardate! E noi il 17 dicembre porteremo tantissimi libri al nostro evento! Si! Che bello, che bello! Ce ne saranno tantissimi così, nel caso potrete acquistarli anche lì! E potremo anche firmarli! Esatto, perché ci faremo tantissime foto, sarà bellissimo, quindi non mancate! E poi è un villaggio, Vinci! Si, è un villaggio di Natale! Un villaggio di Natale! Eh sì, il 17 dicembre saremo al villaggio di Natale per incontrare tutti voi, tantissimi di voi, e insieme a noi ci saranno anche i nostri libri! Oh oh oh! Apriamo un po' il nostro libro? Dai, apriamo un po' il nostro libro! Anto e Vinci, il sogno di Hop! E sapete qual è il sogno di Hop? Noi non diciamo niente, voi dovete scoprire qual è il sogno di Hop! Vabbè, vinci dai, vinci dai, diciamolo a tutti, il sogno di Hop è diventare un essere umano! Esatto, ma poi ci riuscirà? Oppure no? È scritto tutto in questo libro, ci sono tantissimi misteri da scoprire! Eh sì, in questo libro il nostro cagnolino è triste perché vuole diventare un essere umano, proprio come noi! Una mano! Secondo voi ci riuscirà? Ah ah ah, che bello! Questo libro è stupendo! Guarda Vinci, ci sono anche tantissimi disegni! Wow, questo è il nostro cagnolino! E qui cosa dice? Che paura! Oh, perché il nostro cagnolino qui ha paura? Perché forse è successo qualcosa di molto spaventoso, chissà, ma noi... Dobbiamo fare silenzio perché i diavoletti dovranno leggere il nostro libro, Anto e Vinci il sogno di Hop! Ma adesso dobbiamo far vedere la nostra nuova casa a tutti! Ok, quindi adesso vi facciamo un tour della nostra nuova casa! Oh, guardate quel cavallo! Quel cavallo vi piace? Che bello questo cavallo! E poi abbiamo il cammino, tanto amato dal nostro cagnolino, guardate! Sì, il nostro cagnolino si avvicina sempre a quel cammino, si mette su quel cuscino e poi... Sì, si avvicina al cammino! Sempre, è sempre lì! Ok! Poi qui c'è il divano! E poi abbiamo delle scale! Sì, qui ci sono delle scale, guardate! E il nostro cagnolino ama salire queste scale! Sì, è salito prima di noi! Questo magnifico! Poi, guardate! Questa è la cucina! Vi piace la cucina? Una cucina gigante! Sì, l'orologio è super gigante! Vinci! Guardate la lancetta! Guarda, qui c'è una mela! Attenzione! Non voglio romperla! Ok, non devi romperla! Guardate, questa mela è super gigante! Vinci, non rompere questa mela! È enorme! Non rompere... Vinci, non rompere questa mela! No, no, ha intenzione di rompere la nostra nuova casa, Anto! Guardate che bella questa mela! Oh, Vinci! Guarda, qui c'è anche una scimmia! Una scimmia che... Viene una luce! Guardate, ha una luce qui! Oh, questa casa è veramente stupenda! E ci sono tantissime cose! Poi c'è la piscina! Ci sono veramente tantissime cose! Sì, abbiamo anche un giardino immenso! Ok, Vinci! Dai, mostriamo la piscina a tutti! Andiamo! Oh, cosa? Oh, no! Anto, stai bene? Vinci, mi fa male un po' la fronte! Oh, sì, è tutta rossa! È normale che ti fa male! Ah, ah! Sono caduto dalle scale! Oh, è stato terribile! Ma come hai potuto? Sei inciampato! Vinci, è una nuova casa! E io non conosco molto bene queste scale! Beh! Vinci, sto prendendo un po' di ghiaccio! Ok, sì! Metti un po' di ghiaccio! Non ci vuole un po' di ghiaccio quando ti fai male! Ah, ah! Vinci, guarda! Oh, è tutto rosso! Dai, mettilo! Sì, devo mettere il ghiaccio! Mettiamo il ghiaccio! Ah! Vinci, ok! Adesso va meglio? Un pochino meglio? Ti senti meglio? Sì, vi aggiorniamo, vi aggiorniamo! Oh, uffa! Stoppa il video, Vinci! Stoppa il video! Ok, vi aggiorneremo! Ah! Ok, vi aggiorneremo!